Potranno cominciare tra poco più di un mese i lavori per la riqualificazione ambientale e il risanamento igienico del torrente Catarratti-Bisconte. La notizia arriva dalla Regione. L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci li ha giudicati infatti all'Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio Stabile PCCSC-SRL di Maletto, per un importo di 15.800.000 euro. Nella struttura commissariale diretta da Maurizio Croce arriva dunque il via libera per l'opera più consistente in termini finanziari, ma è realizzata nella città dello stretto. Si tratta di un intervento, spiega il Governatore Musumeci, che era stato progettato negli anni 90, ma che soltanto adesso, grazie alla grande attenzione rivolta sin dall'inizio al problema della sicurezza del territorio, può essere realizzato. E questo può essere considerato uno dei casi simbolo del forte contrasto a ogni rischio latente, considerato che andiamo a eliminare per sempre il problema di una catastrofica esondazione all'interno di un centro abitato. Il progetto provvede alla sistemazione idraulica del torrente, ma anche opere viarie di sistemazione e di razionalizzazione della sede stradale esistente, che costeggia il corso d'acqua fino all'abitato di Catarratti. Sarà realizzata inoltre una nuova rete fognaria, che andrà a sostituire quella attuale, che per gran parte si sviluppa nell'alveo del torrente.